Cosa scrivere nella propria LinkedIn Summary? Beh, la LinkedIn Summary, ovvero il nome in inglese della sezione Informazioni, è l'area del profilo in cui si offre una visione maggiormente discorsiva della propria professionalità e della propria capacità di incidere nel lavoro. Di solito la LinkedIn Summary è fra i componenti che intimoriscono maggiormente chi mette mano al proprio profilo. Cosa posso scrivere nella LinkedIn Summary? Come posso impostare questo testo? Beh, moltissime persone davanti a queste domande, davanti a questo spazio bianco, beh, rimangono bloccate. Allora cerchiamo di capire insieme cosa scriverci dentro perché malgrado possa godere di uno spazio meno visibile rispetto alla prima versione di LinkedIn, beh, la Summary mantiene sempre un ruolo centrale nel successo di ogni profilo. Perciò dobbiamo farla davvero bene. Benvenuti su Merite, io sono Giorgio Minguzzi e lavoro con le aziende che vogliono avere risultati dal marketing sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Se vuoi continuare ad ascoltare i contenuti fatti apposta per chi lavora in azienda, beh, allora ti consiglio di premere subito subscribe così da non perdere nessuna delle prossime puntate. Come stavo dicendo, la Summary del profilo LinkedIn è un elemento davvero importante. Infatti quando un recruiter o un potenziale cliente è lì che sta seriamente valutando il nostro profilo, beh, per approfondire la nostra conoscenza clicca ed espande proprio quella sezione. Perciò se un tempo la funzione strategica di questa parte del profilo LinkedIn era quella di offrire uno spazio dove ospitare una versione discorsiva del curriculum vite, oggi la LinkedIn Summary è lo strumento usato da chi vuole conoscere qualche cosa di più su di noi, da chi vuole confermare l'intuizione che ha avuto a prima vista andando un pochettino più a fondo. Dal punto di vista proprio dei contenuti, la LinkedIn Summary appare come una porta d'ingresso che varcano tutti coloro che seriamente sono interessati a saperne di più di noi. Se la foto e la headline hanno fatto il loro lavoro nell'attirare l'attenzione delle persone giuste, è la Summary il posto dove queste vanno a scoprire se siamo davvero noi quello che fa per loro. E siccome non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione, beh, è opportuno che la Summary venga fatta davvero bene. Ma cosa ci scriviamo dentro? Beh, ora condividerò alcuni spunti di puro buonsenso per creare una Summary capace di adattarsi anche ai cambiamenti futuri di LinkedIn. Io consiglio sempre di rivedere almeno una volta ogni sei mesi il proprio profilo, ma so che poi le persone non hanno tempo, è tutto molto difficile e non lo fanno quasi mai. Perciò i consigli che sto per elencare saranno utili per creare velocemente una LinkedIn Summary sempre verde, almeno per quanto concerne la parte grafica della piattaforma, che è destinata per forza di cose ogni tanto a cambiare. Se vorrete fare ovviamente di più e aggiornarla più spesso, beh, non dovrete fare altro che rivedere questo episodio e apportare le correzioni opportune. Quando si iscrivono a LinkedIn Summary la cosa fondamentale è avere subito chiaro lo scopo che ci anima. Perché aggiorniamo la Summary? A che cosa serve il nostro profilo? A trovare lavoro? Oppure a farci guadagnare una promozione? A trovare dei nuovi clienti? Oppure a costruire il nostro personal brand per essere invitati a parlare sul palco di un evento davvero prestigioso? Qualunque sia il motivo per cui scriviamo la LinkedIn Summary dobbiamo avere le idee chiare prima di metterci alla tastiera, perché sarà fondamentale individuare per tempo le persone a cui vorremmo poi rivolgere il nostro messaggio. Una volta chiarito lo scopo possiamo iniziare tranquillamente a scrivere. Potremmo essere dei CEO, un architetto, un capo ufficio pacchi. Permette Loris Batacchi, io lavoro alla posta, capo ufficio pacchi. Ma prima di metterci alla tastiera a testa bassa dobbiamo per forza avere chiari i motivi anche per cui le persone dovrebbero prestare attenzione a noi. I problemi che risolviamo con la nostra professionalità devono essere i protagonisti, altrimenti ci perderemo nella moltitudine indistinta dei leader, degli orientati ai risultati, degli amanti del teamwork, ecco robe che francamente ormai non vuole più sentire nessuno. Ora che sappiamo esattamente però quello che vogliamo e quello che vogliamo raggiungere e soprattutto come possiamo aiutare il nostro interlocutore è ora di scrivere la nostra storia. Sì perché alle persone piace ascoltare delle storie e la LinkedIn summary è forse il posto migliore in tutto il profilo per scriverne una. Le storie hanno il potere magico di fissare i contenuti nella mente di chi ci ascolta e perciò è necessario lavorare alla nostra anche sul nostro profilo. A proposito di come si scrive una storia e dello storytelling in generale, se non sappiamo da dove partire, la rete è piena di risorse in grado di aiutarci. Quella che ha aiutato più di tutti me è un libro dal titolo Come costruire uno story brand di Donald Miller e trovate nelle note tutti i link per comprarlo, tra l'altro è stato anche tradotto in lingua italiana abbastanza di recente. Ad ogni modo quello che sarà fondamentale per noi sarà mantenere un piglio decisamente naturale. Faccio un esempio così vi è tutto più chiaro. Immaginiamo di essere un venditore di software che partecipa a un convegno e a questo convegno viene avvicinato da una persona che gli chiede cosa fai nella vita? La risposta è chiara e mi occupo della parte commerciale in una ditta di software. La nostra controparte risponde davvero? Beh, interessantissimo. Di cosa vi occupate? Vi occupate di CRM? La risposta è certamente, rispondiamo noi ovviamente, siamo fra i primi rivenditori che ne so, di Salesforce. Un nome a caso. Ecco, meraviglioso, è uno dei marchi più conosciuti, anche noi lo stiamo valutando e la conversazione continuerebbe così. Ora dovete spiegarmi perché nella medesima situazione, nel medesimo scenario su LinkedIn noi rispondiamo più o meno tutti così. Ho una pluriannale esperienza nell'offertazione e risoluzione a valore aggiunto per i clienti che vogliono ottenere il massimo dal loro CRM. Ho una passione per l'innovazione del prodotto, l'analisi dei processi e per i modelli di business. Ho sviluppato negli anni una visione a 360 gradi di ogni tipo di business e ho un approccio laterale. Sono dinamico, orientato ai risultati e capace sempre di superare le aspettative della direzione commerciale per quanto riguarda il raggiungimento del budget a me e a signora. Ora, cosa volete che si faccia con questa roba qui? È una noia mortale. Mortale. Vi faccio un altro esempio meno estremo. Vediamo un commerciale che lavora con l'estero e che magari lavora in paesi rischiosi. Ecco, normalmente nella sua summary troveremo una frase come sono un area manager per i paesi Somalia, Sudan e Libia. Una roba molto semplice. Se invece dovessimo trasformare tutto questo in una storia, beh, il medesimo lavoro potrebbe suonare invece così. Sono un commerciante che va solitamente dove nessuno vuole andare. Gestisco un budget di 5 milioni di euro in impianti industriali fra la Somalia, il Sudan e la Libia. Vedete quanto è differente? Perché infarcire la summary di termini altisonanti ci farà un po' impantanare nella banalità. Ora, il dono della sintesi è appunto un dono e non tutti lo hanno e non tutti possono permetterselo, però è anche vero che semplicità e spontaneità sono davvero alla portata di tutti. Il libro che vi ho menzionato prima è un esempio che ci aiuta proprio su questo aspetto. Ovviamente una buona storia non basta, perché poi bisogna entrare nella logica di LinkedIn e usare un pochino di accortezze proprie dello strumento. La prima è parlare la lingua della controparte, perché in ogni lavoro c'è un gergo, un gergo specifico, e usarne un altro non va bene in quanto non ci permetterà di essere riconosciuti dalla nostra audience che ci tratterà come un corpo estraneo. La seconda è formattare bene il testo. Ora, lo so, LinkedIn non offre un editor eccezionale, ma mette a disposizione tantissimo spazio e l'uso di molti simboli ed emoji. Io consiglio di usarli non per rendere più buffo tutto quanto, ma per rendere la lettura più fluida, la lettura della nostra summary molto più scorrevole, in modo da rendere il testo più agile. La terza accortezza invece da usare è scrivere in prima persona. Usare la terza persona singolare ci rende davvero distanti dai nostri lettori, ci fa sembrare una nota di una enciclopedia. Siccome LinkedIn non è Wikipedia, usiamo la prima persona singolare e vedrete che si allaccerà un rapporto molto più facilmente con il nostro interlocutore. Poi dobbiamo aggiungere dei link, in modo da invitare il nostro visitatore, una persona che sicuramente a questo punto sarà interessata, a spostarsi su un terreno più controllato da noi. Ricordiamoci che se il nostro interlocutore resta per tanto tempo su LinkedIn, è ad un click da un nostro potenziale concorrente. Perciò meglio spostarlo subito su un ambiente meno ostile appena possibile. Infine dobbiamo inserire sempre una call to action. Cosa vogliamo che facciano questi lettori? Vogliamo che ci chiamino, che scarichino una brochure, che prendano un appuntamento, vogliamo che compilino un form? La call to action è un invito a proseguire il rapporto con noi ed è un passo fondamentale per la nostra summary. Perché credetemi, non è una buona LinkedIn summary senza una call to action. Bisogna che abbiamo chiaro in mente qual è l'azione che vogliamo far fare al nostro interlocutore, perché se è arrivato fin lì a leggere, è decisamente interessato al nostro profilo e quindi cosa vogliamo che faccia? Che ci chiede il contatto, che segue un link, che si lega una catena di mail, che entri in un funnel, che riceva una telefonata? Dobbiamo avere chiare tutte queste cose prima di mandare un utente su una landing page esterna a LinkedIn. Vede, come vogliamo proseguire questa relazione è davvero molto importante. E' bene che noi lo diciamo chiaro e tondo cosa vogliamo perché non è detto che le persone abbiano voglia e soprattutto la capacità di cogliere quelle che sono delle nostre aspettative. Bene, a questo punto quasi tutto è andato al suo posto. Dobbiamo solo mantenere il profilo al passo coi tempi e sempre aggiornato. Come dicevo prima, occupiamoci del nostro profilo almeno un paio di volte l'anno e in generale ogni volta che cambiano i nostri obiettivi lavorativi o di vita. Il nostro lavoro muterà, se non nel job title, sicuramente ogni sei mesi faremo il nostro lavoro in maniera leggermente diversa o ci preoccuperanno cose leggermente diverse. Bene, mantenere aggiornato il nostro profilo ci consentirà di dialogare sempre con la controparte giusta in ogni fase della nostra carriera. Credo che però con queste indicazioni sia possibile davvero migliorare la summary. In caso contrario scrivetemi nei commenti, fatemi sapere se siete interessati, che ne so, magari a vedere qualche template già precompilato in modo da essere facilitati a seguire una traccia. Io questi template li uso solitamente nei corsi di LinkedIn che faccio in azienda. Ho infatti un programma che insegna a riempire il CRM aziendale di opportunità commerciali proprio grazie a questo social. Se la cosa vi interessa potete dare un'occhiata al sito di Meritabiz nella sezione servizi oppure nel link delle note dell'episodio di oggi che è il numero 277. Quindi merita.biz barra 277. Rinnovo ancora una volta l'invito. Se questi argomenti vi interessano e avete delle domande specifiche su certi aspetti da approfondire, bene, scrivetemi o lasciatemi un commento sotto nell'episodio. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao! Ciao!